Amici di Battista 70 Phone, oggi vi presento la cover Ultra Slim TPU da 0,3 mm per HTC One M9. È una cover molto sottile, flessibile, con una parte interna zigrinata che non consente la creazione di bolle o aderenze che sarebbero alquanto antiestetiche. Andiamo ora a metterla, ovviamente è molto stretta perché è fatta perfettamente sulle dimensioni e sulle forme del M9. Andiamo a metterla, come vedete è praticamente invisibile, frontalmente non si vede, posteriormente idem, però ha il vantaggio di proteggere la cam, come vedete qui c'è una parte in plastica rialzata, rimane ben disponibile il flash, forellino per il noise reduction, i tasti sono coperti ma non c'è assolutamente nessun tipo di problema perché sono accessibili, potete vedere che il volume si alza e si abbassa senza alcun tipo di problema, nella parte inferiore ben accessibile l'ingresso micro USB, come potete vedere il ritaglio è bello ampio quindi non ci sono problemi con compatibilità con cavi diversi, jack da 3,5, da questo lato è coperto ovviamente l'ingresso per la nano sim perché tanto lo metterete una volta e non più, potete vedere come vi dicevo non si creano bolle né niente, aumenta assolutamente il grip perché comunque è gomma e frontalmente c'è un minimo di scalino quindi se lo andiamo a appoggiare anche di piatto state tranquilli che il display non si graffierà, come sempre la trovate nel nostro shop a prezzi modici. Con questo concluso un saluto da Loris, alias Battista70 per Battista70 Phone.